Molte persone mi chiedono il perché io tengo esposte tutte le mie medaglie pensando magari fosse anche un qualcosa per gratificare l'ego. In realtà è un qualcosa che a me motiva tantissimo. Tutti i giorni che mi sveglio la mattina vedo tutto il mio percorso agonistico dalle prime medaglie di quando avevo 9-10 anni fino alle più recenti, le medaglie mondiali. Nella stanza del nuotatore azzurro Lorenzo Zazzeri i medaglieri non bastano più. I primi tre regalati dalla nonna materna germana che evidentemente ne aveva subito intuito il talento. Mi ricorda il mio bambino e tutto il percorso che ho fatto nello sport. Manca Tokyo che ahimè purtroppo quest'oggi non vi posso far vedere perché tornato dalle Olimpiadi subì un furto e da allora io mi sono spaventato e la medaglia che io considero l'apice, quella che tutti gli atleti sognano la tengo al sicuro in cassetta di sicurezza in banca. Aspettando Parigi. Aspettando Parigi incrociamo le dita. Le prime gare sono i regionali toscani, in queste piscine lontane al caldo. un continuo, abbiamo passato degli anni, bello uguale perché vedevi dello sport. Però tanti sacrifici sì, anche da parte della famiglia. Questo bisogna dirlo a tutti. Se non c'è una famiglia dietro importante non possono nascere ragazzi come Lorenzo. Devo dire la verità, io non volevo che facesse nuoto. Io lo iscrissi alla Settignanese che è una società storica di Firenze che intraprendesse il calcio. Ho optato per il nuoto perché ero insegnante di nuoto e quindi io amo tuttora, proprio mi piace sentire l'odore del cloro. Sembra una cosa assurda ma è così. Poi Lorenzo era molto grasso da piccolino e quindi non lo vedevo adatto da un punto di vista anatomico, fisico, a fare calcio. Avevo paura che si rompesse praticamente. Il calcio ormai, secondo me, per quanto rispetti gli atleti che lo compongono è diventato un business. Girano troppi soldi ed è uno show. Non ci rivedo più l'essenza vera dello sport. Il nuoto è uno sport molto faticoso che richiede disciplina, costanza e dedizione. Però è veramente molto bello perché stare immerso nell'acqua è una sensazione difficile da spiegare, è un po' come volare. Gli dicevo, guarda, in piscina io sono la tua maestra e lo senti dire a un bambino, guarda che io qui la chiamo maestra ma a casa la chiamo mamma. È stato eccezionale. Fiorentino, classe 94, argento olimpico a Tokyo, campione del mondo a Budapest, oro europeo a Roma. Zazzart coniuga l'amore per lo sport con la passione artistica, schizzi e pennelli sulla sua scrivania. Un mondo a colori, nonostante le difficoltà. Lo realizzai proprio nel momento di stop, nel periodo in cui i miei compagni realizzarono il nuovo record del mondo ai mondiali di Vasca Porta di Melbourne e rappresenta proprio quel momento di massima concentrazione prima della partenza e prima della gara, no? Quindi si offusca tutto, ci sei solo te, il blocchetto e la tua corsia. Uno zanzeris devastante in questa prima parte, mette addirittura il naso davanti agli Stati Uniti che rispondono immediatamente con Becker. Ma l'Italia è sempre lì in lotta per una medaglia con Lorenzo Zazzeri che non molla la posizione, non molla all'osso. È stato dipinto subito dopo le Olimpiadi di Tokyo, c'è il famoso detto che Pulcinella non sa nuotare e allora proprio per questo dal Vesuvio escano i cinque cerchi olimpici e Pulcinella si aggrappa ad uno di questi cerchi per salvarsi, che può essere un po' la metafora per cui lo sport può salvare anche dalla strada o da situazioni difficili i giovani ragazzi. E l'Italia c'è, mancano cinque metri, ci siamo, l'appuntamento con la storia è arrivato, Stati Uniti, Italia d'Argento! È successo qualcosa di impensabile! È un miracolo sportivo quello che stiamo facendo in questi anni, perché dopo una staffetta, il campione olimpico Blake Pieroni mi ha detto a me personalmente per la prima volta abbiamo tremato. E questo è un qualcosa che la dice lunga, perché comunque noi, piccolo paese, 60 milioni di abitanti, con un sistema scuola sport che ancora non funziona bene, con le strutture non all'avanguarda, riuscire a competere con Australia, Stati Uniti d'America, Russia, Inghilterra che negli ultimi anni ha investito miliardi nello sport, insomma, ti fa capire quanto potenziale umano c'è in questo paese. La pittura lo ha aiutato nel momento più triste, quando in seguito a uno shock anafilattico è stato costretto a un lungo stop dal nuoto e da qualunque attività fisica. Mi vengono sempre i brividi ora per quello che ti sto dicendo. Lui, non so, stava passando un momento problematico e al Papa gli disse, quando si inchinò per baciargli una mano, sto perdendo un po' la fede. Questo non è bello. E il Papa gli rispose in maniera sintetica una frase, secondo me, stai perdendo la fede? Aiuta gli altri. Non ti stancare mai di aiutare gli altri. Ti arriverà la fede. Bellissimo. Profondo. In quell'occasione ha mostrato tutta la sua forza d'animo. La medaglia d'argento di Fukuoka rappresenta una rinascita. A me porta fortuna il Giappone. Vinco sempre una rodata. Sì? All'Olimpiadi quest'anno. L'Australia che ha la tocco e campione del mondo per l'Italia arriva a una medaglia d'argento straordinaria. Comunque un campionato del mondo che si apre timbrando il cartellino alla grande. Questa è l'ultima medaglia a Fukuoka ai mondiali giapponesi. Ironia della sorte, io durante l'anno ho dipinto l'acqua e la medaglia simula proprio la superficie dell'acqua. Quindi quando l'ho saputo mi è sembrato veramente una coincidenza pazzesca. È stato uno dei momenti più difficili della mia carriera sportiva ma direi della mia vita in generale. Ho avuto questo problema di salute abbastanza serio che mi ha tenuto lontano da ogni forma di attività fisica per cinque mesi e nemmeno i dottori sul momento sapevano cosa avessi. Quindi è stato un momento veramente che mi ha messo alla prova da un punto di vista mentale soprattutto. Il fatto che io sia riuscito comunque a rimanere lucido, freddo e sereno durante quel periodo lo devo anche al fatto di avere al di fuori della vasca un'altra passione che è quella dell'arte e della pittura. Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio la Galleria degli Uffizi nei luoghi simbolo della sua Firenze trova spesso l'ispirazione per nuovi lavori immancabile la passeggiata sull'Arno. A cinque anni già disegnava e ricopiava le figurine nessuna particolare vena artistica in famiglia ma la manualità è senz'altro quella di nonno Renzo. Per la tecnica pittoria con cui sono partito io che è l'iperrealismo, quindi molto meticoloso ci vuole tanto tempo per realizzare un quadro devi essere paziente la stessa pazienza per cui nel preparare una prestazione di alto livello richiede mesi e mesi di allenamento ed essere molto scrupolosi nei dettagli così come nell'iperrealismo anche nel nuoto e nella velocità in particolar modo. Fantasioso, sognatore, testardo e competitivo. Uno di quelli a cui tengo di più è questo qui, il diploma di merito del CONI Atleta Eccellente, Eccellente Studente ed è un riconoscimento che viene dato per gli atleti che percorrono la dual career quindi sia al percorso agonistico nazionale sia quello accademico all'università. Lungo il percorso faticoso gli incoraggiamenti dello storico allenatore Paolo Palchetti. Lui lo vedo come un secondo padre ci ha sempre stimolato nel proseguimento anche degli studi e della carriera accademica anche perché poi io penso che lo sport moderno sia diventato molto più complesso della singola performance cioè le prestazioni stesse non sono solo frutto dell'allenamento ma dell'intelligenza sia dell'allenatore che dell'atleta. Io ho avuto un percorso liceale abbastanza complesso perché oggettivamente la mia scuola non mi ha mai supportato nel mio sogno e nel proseguimento della mia carriera sportiva pensando che fosse un ostacolo per lo studio quando in realtà il fare sport ti aiuta a essere più organizzato nell'affrontare la vita scolastica. Con l'esperienza di Lorenzo mi sono accorta che quando si allenava ed era liceale si allenava con il pensiero dello studio quando studiava si studiava con il pensiero dell'allenamento. Io con Lorenzo l'ho avuto questo dilemma e per un paio di mesi abbiamo in prima liceo ha smesso di nuotare ma strano a dirsi i risultati scolastici peggioravano invece che migliorare. Io prima di chiudere gli occhi voglio una cosa da te cosa babbo mi disse lui una laurea in qualsiasi settore non ti ho mai forzato in nulla scegli la facoltà e portami questo benedetto pezzo di carta così l'ha fatta. Anche nonno Emilio in passato aveva chiesto a papà Giuliano di laurearsi e proprio al nonno paterno generale dell'esercito scomparso nel 2015 Lorenzo ha dedicato la scelta del gruppo sportivo di appartenenza un modo per rendere omaggio alla sua memoria e alimentarne il ricordo. Art director, grafico pubblicitario, cronista sportivo gli interessi sono molteplici e le attitudini pure è pronto a strapparci il mestiere. Al di là delle medaglie lo sport è un veicolo di messaggi quindi se io posso essere un esempio positivo per chi mi segue è un qualcosa di cui ne vado altamente fiero e penso sia la cosa giusta da fare perché comunque tramite la mia esperienza posso migliorare forse e stimolare la vita degli altri. Zazzarte è atteso da impegni importanti a dicembre l'Europeo in Romania e a febbraio il Mondiale di Doha per accarezzare il sogno di Parigi 2024. A Parigi arriverò in piena maturità fisica e mentale quindi la vedo un po' come l'Olimpiade definitiva non che magari non ce ne potranno essere altre in futuro però come quella del culmine della mia carriera quindi poi tra l'altro Parigi è una città che non ho mai visitato anche lì ricca di arte e non vedo l'ora di andarci però prima mi dovrò qualificare quindi incrociamo le dita. Il sogno che sono le Olimpiadi e la medaglia ancora di più io non me lo sarei mai aspettato e ancora mi commuove. Parigi 2024 manca l'oro. Quello è il sogno dei sogni è dietro l'angolo loro, lui, i suoi compagni si stanno impegnando tantissimo noi quello che possiamo fare come famiglia è supportarlo. Intanto deve qualificarsi perché nulla viene da nulla bisogna tenere molto i piedi in terra perché ci sono ragazzi emergenti dietro che aspirano ad andare anche loro però Parigi, sì mi farebbe molto piacere e vi faccio una promessa che se andrà a Parigi costi quello che costi mia moglie andremo a Parigi a seguire. Alla prossima Grazie a tutti.